Ciao gente, io sono Xanakobi e oggi siamo tornati su La Domenica Wakfu L'ultima volta eravamo rimasti che siamo entrati nel portale del nostro elemento che sarebbe l'acqua Ma in questa settimana, o oggi o in questa settimana scorsa, è successo un aggiornamento che sembrerebbe bello Quindi andiamo subito a vedere di cosa si tratta Ok, l'ultima volta eravamo rimasti che eravamo qui dentro questo portale Negli altri non ci possiamo entrare, forse ancora no, ma forse dopo sì Qua c'è un punto interrogativo, non lo so perché Allora, qua questa roba per me è nuova Cioè non ci gioco ancora da una settimana, mannaggia E ci sono gli sconti del 30% se non sbaglio No, sbaglio, sbaglio, sbaglio Tra l'altro voglio farvi vedere se lo fanno vedere qua oppure... No, non lo fanno vedere qua, infatti Un attimo, eh Cioè, non sono del 30%, no? Credo Ah, boh, non lo so, se no perché c'è il segnaletto dell'euro... Boh, è così, basta Insomma, hanno messo questo boster che secondo me non è per sempre Cioè, se per sempre va bene Infatti era, boh, clicchiamo qua per saperne qualcosa Allora, questi qua... questo è un boster Per chi non lo sapesse i boster sarebbero come dei potenziamenti A pagamento, ovviamente Che purtroppo durano giorni Questo 7 giorni, 7 giorni 30 giorni, infatti 30, 30, insomma Più paghi, più è potenziato E... non so Come... cioè, non so perché c'è qua Forse è gratis solamente Se magari fosse gratis solo per oggi Vabbè, insomma Niente A quanto pare questo boster è solamente per chi vuole pagare È solamente un esempio Sconto del 30% sui boster e queste cose Noi, l'ultima volta Toh, intanto entra un tipo Aspettate, aspettate Noi l'avevamo già fatta questa scena, eh Quindi Spero di non rifarlo da capo Però, intanto se lo rifacciamo da capo Ve lo spiego anche un po' meglio Dunque, l'ultima volta Avevamo parlato con lui, credo Se riuscivo a parlare Ah, sì Quella cosa di 30 giorni e anni fa Quella roba, insomma 300 anni fa, insomma Insomma, sì Abbiamo trovato Il libro Che quindi abbiamo combattuto contro Dei libri volanti Come ad Hogwarts E... Ecco, infatti qua abbiamo combattuto contro i libri Abbiamo preso un libro Credo Vabbè, lasciamo stare queste cose E ora dobbiamo esaminare Una cosa che si trova più avanti Questa è praticamente una vecchia biblioteca Antica Presente, no? Dobbiamo esaminare una cosa Non so cosa ma Bisogna esaminare qualcosa Vai Fermo, eh Esaminiamo questo Velocemente, dai Abbiamo trovato delle catacombe Cioè, dei mostri nelle catacombe Vabbè, velocemente Figlio zero di danno Ma va bene E intanto ci metto Non dovrei neanche velocizzare qua Perché ci metto pochissimo Il master Cosa? Aspettate Il master Mi riviverà di nuovo Chi è il master? Il vampiro? Vabbè, io non voglio esaminarlo di nuovo Sarebbe una perdita di tempo Secondo me Però dai, è bello lo scenario Oh, è arrivato qua Ah Ehm Come cavolo si può tradurre? Ma Cosa? Il cap Il cap Non si legge Segreti Scherzi Cose Ah, è quella È sempre quella dell'ocarina Dai Stoppatevi ora Insomma, fermatevi Twisty Ha 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 Grrrr Sì 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 Ma loro sono più forti oggi? Sì Certo Oh Si sono duplicati Sono più deboli del gatto Come fanno ad essere più deboli del gatto? Il gatto è a livello 30 Cosa è a livello 31 Cosa è a livello 31 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è tutto... Oh, basta. Dal gobble... Dal fantasma gobble... Vuole il feca shield. Ah! Sono cal... Un nome difficile. Oh, perfetto. Ti porterò da... Ah, basta. Non traduco più. È un boss? Ah, no. Non devo combatterlo. Ok. Adesso è di livello 200, ma devo... Aspettate. Ok. Bene, dobbiamo trovare l'entrata per... Il vecchio stadio... Il vecchio stadio gobble di Bonta. E noi siamo a soffoche. No, non siamo a soffoche. Beh, qua si può usare il libro, no? Però per sicurezza torno indietro a piedi, quindi... Aspettate, ma qui non c'era stato, infatti. Dove sta andando? Ah, è qua. Io pensavo di usare... Cose. Cosa vuoi ora? Cose. Continuiamo a parlare. Ah, boh, lasciamo stare. Insomma, bisogna... Entrare qui dentro. Ovviamente non si può editare. Ok. Un momento lag. Eh, combattiamo. Cosa vuoi essere? Tin ان billati visioni davanti. behè? Ma non pot Eh, bor Va bene. Loh, non W native. Ti viene un€€€€€€€€€€€€€€RR€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€! ok sono salito di livello credo ah sì bella lì vediamo velocemente qua aumenterei la barriera assolutamente e abbiamo la nostra nuova non spells e magari spells tutto a livello 60 sia è giusto credo sì livello 60 abbiamo la nostra nuova passiva che sarebbe transitori calma food insomma fa cose belle secondo me forse potrebbe essere e ora aspetta cos'è questo è puccioso cos'è questo relic hunt aspettate ah dal livello 50 allora va bene spogliatoio dei pappaball spogliatoio dei pappi spogliatoio dei pappi Oh, ecco fatto Ok, e ora bisogna ovviamente continuare l'avventura Ok, abbiamo finito di giocare con questi morti, così C'è ancora cosa? Ancora, dai Spè, 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 ah no Ma questo è proprio il campo Pappagol No, non credo C'è più che altro, non sembra Vabbè, continuiamo Oh, ecco Oh, ecco Ah, ma qui non dovevamo fare goal Ah, va bene, va bene così, dai, lasciamo stare Eh, come faccio ad arrivare là? Ah, è bella partita di Pappagol Ehi, c'è qualcuno? Come, come? Devo arrivare qua? Come faccio ad arrivare là? Devo fare la strada lunga? Non devo fare la strada lunga Come faccio ad arrivare là? Ah, forse da qua, infatti Non ci ho pensato Aspetta, aspetta, aspetta Eh, no, non si può andare lì Cos'è? Go, ball Cup Ah, la coppa del campionato, insomma Yeah, abbiamo vinto la coppa del campionato Ah, no, la prende lui? No, no, sì Ottimo lavoro Questo Ora è tempo a... Oh, boh, basta È tempo pronto, insomma L'oraculum della palla, eccetera Non così, veloci Hai cercato la coppa Parla con me Nooo Alla fine quello che ci voleva aiutare Si rivela essere il fantasma più forte di tutti No, chi se l'aspettava questa? Beh, io un pochino, ma non così tanto Nooo Quindi ora lui in realtà è il capo È il capo Avete capito, insomma No, chi se l'aspettava la coppa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A pallarcelo io, non può fermarmi nessuno. Il giocatore va... è gol! Sconfitto. E ora? Ah, non c'è più un master, quindi è inutile che parli. Sono rimasti solo due, dai. Cioè, beh, magari questa volta non devo colpire lui e lei. Ben fatto, abbiamo vinto il campionato. Bene, è stato un bel match. La coppa è tua. Tu te la meriti. Questo è fantastico. Abbiamo bisogno di mio padre, Adastrub. Prendilo e seguimi. Quindi, ora abbiamo due monete fantasmi. Fantasme. E una polvere intemporale. Ma, quindi, si può prendere o no? C'è scritto, prendi... Lo richiamo... Questa cosa. Dal tempio della scrittura. Ah, bisogna andare al tempio della scrittura. E la coppa la lasciamo qua, dai. Sarebbe stato bello da posizionare nel mio design. Bene, dove si va via? Cioè, da quale... Qual è la strada giusta? Dov'è l'uscita? Ho visto più che andava qua. Ah, proprio da qua? Se non laggasse andrebbe un po' meglio. Oh, oh, oh. Dove siamo finiti? Ah, qui è il posto in cui si trova suo padre. Ah, ma dov'è suo padre? Ah, boh. Beh, intanto parliamo con lui, se non laggherebbe. Soprattutto la pioggia fa laggare, credo. Ciao, giovane avventuriero. Ma siamo noi. Eh, devo parlare con suo padre che sarebbe... Il capo. E il capo si trova qua? E lui è il padre? Non lo so. Ah, no, però ha detto al tempio della scrittura di Astro. Quindi andiamo al tempio della scrittura di Astro. Ok. Ma hanno cambiato la musica del tempio della scrittura. Cioè, ne hanno messo una almeno. Credo. Dai, questa musica è più bella. Quella attenta, attenta. Ok, va. Cioè, è lui suo padre. Pugno, eccetera. Sentitemi bene. Eroi della tua prossima missione. Trovatemi e... Ah, boh. Se lui non urlasse ci metterà in meno tempo a tradurlo, insomma. Insomma, lui ordina altre cose a loro due. Picchiandoli. E il gatto se ne sta felice. Che razza di idioti. E di nuovo è successo il bug. Vedete? La mia corsa si vede ancora. Come nell'ultima volta. Quindi. Quindi non so. Exit non è. Non lo so. Lasciamo stare. Lasciamo davvero stare perché... Non so. Non so se questi bug succedano solo a me. O a tutti. Però spero succedano solo a me. O a tutti. Non lo so. E... Boh, niente. E come al solito il video lo finisco in un bug. Quindi se il video vi è piaciuto iscrivetevi. Commentate se avete da commentare. E prima di chiudere il video. Ho scoperto che la Gilda ha un server Discord. Bella lì. Andrò a visitarli. Chissà, forse... Potrò parlare con qualcuno. Qualcuno. Vabbè, parlo sempre con qualcuno. Insomma. Ah, è un'ultima cosa. Io sto sempre... Cioè, se volete parlare. Non so. Parlare con me. Chiacchierare. Giocare su... Cose varie. Come Wakfu, infatti. Qui in descrizione troverete il link di un server TS. In cui di solito ci sto. A volte. Qualche volta. E niente. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi. Eccetera, 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 eccetera. Belli bug. I love bug. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Grazie a tutti.